Ed eccoci quindi all'ingresso di Triple H, il nostro general manager del roster blu Perché dovrà dirci qualcosa riguardo ai contendenti al titolo Darby Black è venuto attualmente da testa, ma godiamoci l'ingresso Ed eccoci quindi attualmente da testa, ma godiamoci l'ingresso Ed eccoci quindi attualmente da testa, ma godiamoci l'ingresso Buonasera a tutti ragazzi Sono qui questa sera per dirvi che la prossima settimana ci sarà un match bellissimo tra testa e Odi E testa ovviamente il campione del WF dovrà difendere il suo titolo Ma questo sarà un non di più un match, cioè un match senza squalifica Così che tutto sarà certo Bene e questo quindi sarà un match per il titolo Il vincitore sfiderà FMO a The Bash 2018 per il titolo WWF Sono stato chiaro? Bene godetevi il resto della puntata perché sarà certamente molto ma molto spettacolare Il vincitore sfiderà FMO a The Bash 2018 per il titolo